Opinione non richiesta del giorno, by Zetta Questo video scaturisce da un video di un altro youtuber molto famoso nel settore gaming, ovvero Dadobox Dadobox quando si è prestato a recensire o comunque a fare un elogio al gioco Plague Tale Lo ha paragonato in modo positivo a un gioco PS4 Io più come un paragone positivo, lo vedo come un paragone negativo O comunque un paragone che non è degno di nota per un gioco come Plague Tale E vi spiego il perché E non parlo senza condizioni di causa, anzi ce l'ho proprio fresco Ce l'ho proprio fresca questa mia opinione Perché da poco ho giocato Last of Us, gas e a Playstation Now Sono al mio primo playthrough di The Last of Us E giocarlo ad anni di distanza dall'hype che si formò davanti al titolo all'uscita Mi sta permettendo di fruirne tramite una prospettiva più distaccata Meno prona a sorvolare sui difetti del titolo La frase, il gioco simbolo di una generazione sul retro alla confezione della remastered Volendo essere manini, può essere tranquillamente interpretato come un avvertimento E non come un pregio Sul piano ludico infatti il titolo è una summa di tutto ciò che ha caratterizzato gli ultimi anni Della generazione PS3 e 360 L'ennettissimo TPS clone di Gears of Wars Titolo la cui influenza è fortunatamente scemato in questi anni c'è da dire Con un abbozzo di stealth Lineare sia per quanto riguarda il level design Che è per ciò che concerne il gameplay In cui gli elementi che l'avrebbero potuto caratterizzare in modo più marcato Vengono semplificati massicciamente O limitati in modo da non disorientare il giocatore Occasionale Come avvenuto alla fine Con un Bioshock Infinite O altri titoli dell'epoca In parole povere Da questa prospettiva è tutto tranne che un titolo innovativo O rivoluzionario Eppure abbastanza sopravvalutato Se consideriamo gli altissimi voti che si è guadagnato Tutte le sciatterie commesse in questa sfera però Vengono ampiamente compensate da un altro fattore L'immersione La storia Questo titolo ha solo storia e immersione L'impatto che The Last of Us ebbe all'uscita È paragonabile a quello che ha avuto The Walking Dead Entrambe le opere non hanno inventato praticamente niente A livello di contenutistico Ma sono arrivate come fulmine a ciel sereno In dei panoramini caratterizzati da una profonda standardizzazione Mostrando a tutti come sia possibile ottenere Dei risultati pazzeschi sul piano dello storytelling Sfruttando degli aspetti propri Dei rispettivi medium Ma è veramente considerati fino a loro Oltre a recuperare parzialmente La lezione impartita da Valve Con il suo seminale Half-Life 2 Congettendo al giocatore il controllo Attraverso molte delle interazioni Che contano davvero tra i personaggi The Last of Us si caratterizza per la ricerca Della plausibilità a tutti i costi Sia sul piano della pura narrazione Che su quello ambientale Anche dal punto di vista della narrazione Per esempio Il fatto di reinventare il classico zombie Come infetto di una variabile Di un fungo realmente esistente Fantastico Ti rende plausibile La possibilità di questa nascita Di questo zombie Niente nel mondo di gioco è lasciato a caso Ed ogni livello è curato in modo maniacale Facendo di ogni piazza O stanza Una vera e propria riproduzione Di un retorico Doppio presente nel mondo reale Al posto di un nodo di congiunzione Funzionale al gameplay Capace di raccontarci Un semplice sguardo La storia di ognuno di questi luoghi Importantissimo Poi il comparto tecnico Tutto ora sensazionale Si tratta che questo gioco Girava per PS3 E sappiamo che grafica di merda Aveva la PS3 In confronto ad Xbox 360 Inoltre la storia tra Ellie e Joel E l'America posta politico Che li circondano È un'esperienza interattiva Di grande rispiro E tutt'oggi un traguardo tecnico Un valore narrativo Super però quello ludico Al punto da rendere il gameplay Una semplice accompagnatore Capace di creare un contesto Ma non di essere profondo Come quello di un Metal Gear O eloquente come un Resident Evil Che oltre alla trama L'immersività C'aveva anche un gameplay Molto giocattoloso Era un videogioco Quindi dal punto di vista oggettivo Un capolavoro Che è sicuramente giovato Nel momento in cui è uscito A cui però per gusti personali Sinceramente non darei mai Un 8 e mezzo un nome Che ha dato la critica E non gli darei Tutta questa grande importanza Dal punto di vista del gameplay Spero di essere stato chiaro Con questa mia piccola descrizione Ma essenzialmente è questo Mi ha dato fastidio Così vale anche per gli altri paragoni Che ha fatto Ghost of War Eccetera Non si può paragonare A un gioco come Plague Tale Che ha comunque Delle meccaniche consolidate Ha delle meccaniche puzzle Serie Paragonarlo a un Last of Us O un qualsiasi altro gioco PS4 Che è solo story driven Con meccaniche di gameplay Scialbe Giusto per dire Sono un videogioco E ti trasporto Nel gameplay Cioè Questi titoli dell'epoca Che per fortuna E spero scompariranno Ora Con l'avvento Delle nuove videogioche Erano semplicemente Dei giochi Che ti medisimavano Nella storia Perché tu usavi il personaggio Ma stop Non c'era un gameplay Non c'era una difficoltà ludica Non c'era un videogioco Ti immergevano In una storia Punto e basta Quindi paragonare Plague Tale Che ha meccaniche di gioco A un Last of Us Per me Non lo vedo Come una cosa positiva Ma la vedo anzi Come un insulto A un gruppo di sviluppo Emergente Che ha dato l'anime A questo titolo E ha tirato dal cilindro Un capolavoro Oltre già Al precedente Record Anche Record È stato sottovalutato parecchio Ma è un gran bel videogioco Che non ha niente di trama Ma è un videogioco A tutti gli effetti Un dungeon Uno sparatutto In terza persona Vecchio stile Con dungeon Fantastico E questo gioco È lo stesso È Plague Tale È un altro bel gioco E merita Molto di più Di un Last of Us A mio avviso Perché oltre alla storia Come Last of Us Ha anche un gameplay Ciò che i giochi Naughty Dog Non hanno mai avuto Neanche con Uncharted E non è una critica Perché ricca È un genere di gioco A sé stante Questi qua I full immersion Immersive Sim Come possiamo chiamarlo Possiamo anche chiamarlo Immersive Sim Anche se non è un Tipo un Bioshock O un Half-Life Però Non ha gameplay Finitela di Trattarlo come un videogioco Degno di nota Perché è un gioco Senza gameplay Un videogioco Deve contenere all'interno Un gioco Anche se sminchietta Tutta l'immersività Vedi un Resident Evil Le porte che si aprono I bauli infiniti Che fanno ridere Che si teletrasportano Gli oggetti O i puzzle Che è impossibile Che all'Umbrella Corporation La mattina Si svegliavano Facendo tutto quel procedimento Per andare nei laboratori segreti E dai Ovviamente è un videogioco Stiamo parlando Invece Last of Us È tutto più plausibile E questo per me Ha ammazzato Il videogioco In quegli anni Che per fortuna Grazie a giochi come Dark Souls O gli indie Moderni Stiamo ritornando A giocare Finalmente Finalmente stiamo Tornando a giocare Quindi Dimentichiamoci Di questi Last of Us E compa In giochi della PS4 E speriamo Verso un futuro migliore Con più videogiochi E meno storie interattive O perlomeno Come ho detto Meno storie interattive Hanno il diritto Di esistere Queste storie interattive Della Naughty Dog E similari Però basta Vi ne prego Basta E soprattutto Stampa specializzata Smettetela Di dare voti altissimi The Last of Us Non è un gioco da 9 È un gioco Da 7 Perché c'è una grafica da paura E una storia da paura Ma non c'è un gameplay Come date 7 A titoli senza storia E senza grafica da paura Ma con gameplay Abbiate il coraggio Di dare il 7 Anche a questi titoli Cazzo Questa è la mia opinione È la mia opinione Non richiesta del giorno Fatemi sapere Che ne pensate voi Soprattutto se siete In disaccordo con me Datemi le vostre motivazioni Spiegandole Con le motivazioni Non mi insultate Soltanto Se vi è piaciuto il video Mi piace E se volete altri video Del genere Iscrivetevi al canale Alla prossima Ciao Ciao